Eccoci qua, buon pomeriggio mister, allora Avellino che ha dominato praticamente lungo e largo questa partita, allora le chiedo, facciamo un passo subito in avanti, quanto le dà fastidio averla vinta solo 1-0 una partita del genere? L'importante è vincere, quindi vincere va sempre benissimo. È ovvio che abbiamo avuto diverse situazioni, forse con un po' di attenzione, un po' più di cinismo, sicuramente potevamo chiuderla prima per evitare sorprese, perché poi le sorprese nel calcio sono dietro l'angolo, però la scuola mi è piaciuta, abbiamo fatto tutte e due le fasi molto bene, devo essere sincero, finalmente ho visto un po' di serenità, oggi si muoveva bene la palla, abbiamo giocato molto più liberi e ci dobbiamo riportare questa serenità anche in campionato, non perché non deve essere la Coppa che ci deve dare questa serenità, perché comunque sono partite ufficiali e valgono tutte. In campionato abbiamo bisogno di ritrovare anche questa tranquillità nel proporre alcune situazioni su cui lavoriamo e sono convinto che questa squadra può fare molto meglio in alcune situazioni. Però va bene, oggi abbiamo anche visto qualche giocatore che fino ad adesso avevamo utilizzato meno, abbiamo visto qualche giovane molto interessante, quindi ci sono degli spunti positivi su cui continuare a lavorare sapendo che abbiamo ancora tanta strada da fare. Commissario, le chiedo di due singoli, uno ovviamente Francesco Maisto che ha debuttato con grande personalità, è andato alla conclusione due volte, con una bellissima rovesciata, lei ne aveva già parlato molto bene di questo ragazzo. E poi Jacopo Murano che ha fatto una grande partita, giocando un po' più d'esterno, se questa potrebbe essere la sua soluzione ideale per il futuro? Sì, diciamo che lui ha un certo tipo di interpretazione di quel ruolo, però sicuramente è un ruolo che può fare. Oggi l'ha fatto molto bene, mi è piaciuto soprattutto nella fase di non possesso, dove magari non è il suo forte, però ho visto l'atteggiamento giusto nel voler andare ad aggredire, nel voler difendere e aiutare la squadra, nel posizionarsi sempre in modo da essere d'aiuto alla squadra. Mi è dispiaciuto solo che non abbia fatto gol, alla fine l'ultimo quarto d'ora mi ha chiesto eventualmente anche se ci fosse possibilità di cambiare, ho detto no, rimani in campo perché devi avere voglia prima tu di fare gol, devo dire che si è mosso per fare gol, ha avuto la cattiveria giusta nei movimenti, è stato un po' sfortunato, sul palo soprattutto se non aveva fatto una grande giocata, ha avuto le situazioni, sono convinto che se lavora in questo modo, se ci mette questo spirito, sono convinto che il gol sarà una conseguenza naturale, per oggi sono molto contento per Jacopo e sono molto contento di Jacopo perché ha fatto veramente una signora partita e spero che questo gli dia quella spinta e quella fiducia anche per il proseguire del campionato. Per quanto riguarda Maisto, ne avevo già parlato un po' di tempo fa, è un ragazzo che si sta allenando con noi e lo continuo a dire, l'Avellino ci deve credere in questo ragazzo perché è un ragazzo che ha delle qualità. Questo non vuol dire ora che non è né il salvatore della patria né si deve sentire il peso addosso e la responsabilità di una piazza che sappiamo è molto esigente. Lui con grande umiltà e con grande serenità deve continuare a lavorare e quando sarà chiamato in causa deve continuare a mettere le qualità che ha, che sono tante, e deve migliorare su alcune cose che magari ancora non gli vengono così perfettamente, come è normale che sia. Però lo continuo a dire, l'Avellino per me deve puntare su questo ragazzo perché è un ragazzo che se rimane umile e lavora con grande dedizione, si può costruire un percorso. Ecco, alla fine mister la curva ha chiesto, ha gridato a Crotone senza paura e a tal proposito che slancio vi danno queste due vittorie consecutive contro il Potenza e contro la Fidelissandria senza tra l'altro subire anche gol? Sì, vincere aiuta a vincere. L'avevo detto ai ragazzi, volevo una partita vera e devo dire che hanno fatto una partita vera e ci tenevamo tantissimo a vincere, pur avendo fatto qualche rotazione ero convinto di aver messo una squadra che potesse far bene come ha fatto e è ovvio che poi sabato abbiamo un impegno importante contro una corazzata, una squadra forte però andiamo lì con qualche certezza in più, sapendo che ci sarà tanto da faticare sapendo che ci metteranno in difficoltà come tutti ma dobbiamo avere la forza di mettere di noi in difficoltà, di sfruttare le nostre qualità di essere squadra in tutte le situazioni, di accettare il duello e di voler vincere i duelli individuali c'è da fare una partita molto molto importante se si vuole portare via qualche punto da Crotone però ci dobbiamo credere, dobbiamo andare lì spero con quel pizzico di serenità che ho visto oggi perché poi contro le grandi squadre secondo me conta molto la personalità anche nel proporre perché le grandi squadre solitamente hanno sì grandi qualità ma hanno un po' meno voglia nella fase difensiva noi dobbiamo costringerli invece a faticare poi se loro saranno più bravi va bene ma noi dobbiamo avere la voglia di farli faticare, di farli correre di proporre le nostre idee con convinzione e con coraggio poi alla fine vedremo cosa dirà il campo nella nostra prestazione Grazie, grazie mille